Ubriaca in volo costringe l'equipaggio a un atterraggio d'emergenza in Irlanda. Jennifer Loren, nipote dello stilista Ralph, è comparsa davanti alla giustizia irlandese per il comportamento villano tenuto sul volo, Barcellona, New York. L'udienza si è svolta in un pub del paesino di Killaloe, in mancanza di un tribunale nella regione. In attesa di giudizio, Loren è costretta a rimanere in un hotel vicino, dopo aver versato una cauzione di 2.500 euro. È accusata di aver messo in pericolo la propria vita e quella altrui e di aver creato imbarazzo tra i passeggeri attraverso il suo comportamento, che ha causato l'atterraggio all'aeroporto irlandese di Shannon.